ecco il nostro amorino che è riuscito zoppicando andare in lettiera lui sta sempre coricato su un lato questo amore perché ovviamente avendo la testa della rotula del femore la testa del femore rotta alla altezza del bacino poverino mangia coricato sta sempre coricato un pochino zoppicando va in bagno va in bagno sempre coricato su un fianco ecco che esce così vi posso fare vedere bello mi ha le difficoltà che ha ma con tutto ciò va in lettiera questo povero amore ti tiro fuori io ora più tardi verso le 21 gli devo fare l'antidolorifico ovviamente quando lo tocco sente dolore perché la sua condizione poverino è molto dolorosa guarda come cerca di sollevarsi vieni amore vieni vieni bravo patatino puffettino si stiracchia e l'altra la zampetta che gli fa male ecco qua bello amorino bello amorino ma va molto molto meglio vero amore quanto è meraviglioso questo speedy speedy sei meraviglioso sei stupendo speedy sei un angioletto ma guardate che pelo bellissimo che abbiamo qui un futuro pelo lungo un semilungo è questo un semilungo è già avere un centimetro e mezzo di pelo cioè sarà un pelo semilungo vero amore quanto sei bello ma poi così piccolino con queste zampotti diventerà un gigante un gigante ora lo metto giù così vi faccio vedere com'è zoppica che fatto amore la codina bagnata la pippi amore si è rimasta tutta la pippi di su di te bello mio ora ti asciuga amore hai fatto pure la cacchina bravissimo c'è la mammina che mi sta torturando che vuole mangiare oh amorino sì la pippi guarda amorino sì sì ecco qua forse ti è uscita dopo e non ti sei regolato amore come lo tocco lo tocco poi qua all'altezza della coda molto dolore poverino la mattina gli devo lavare perché la cacchina gli resta tutta attaccata povera gioia bello amorino mio bello piffettino puffettino questo pistolino piccolino piccolino che in due veterinari più io non riuscivamo a capire il sesso l'abbiamo dovuto guardare bene bene questo è il lato che è rotto poverino ora lo metto giù così vi faccio vedere com'è va per il camminare ora purtroppo non si può operare si deve solo saldare da solo da solo perché ovviamente amore guarda la corticina vieni qua guarda il giochino amore guarda il giochino amore eccolo 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 qua questo è il suo giochino preferito eccolo qui il mio giochino guardate come va meglio molto 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 meglio bravissimo amore bravo tesorino che miglioramento bravo angioletto dolce bravissimo se eravamo noi persone che avevamo la testa del femore rotta eravamo lì a lamentarci a piangere aiuto aiuto disperati invece loro guardate anche zoppicando con tutte le difficoltà del caso s'ha fatto pure il sottello amore guardate che meraviglia di gattino strepitoso bellissimo ovviamente un cucciolino vuole giocare bello amore bravo bravo speedy speedy meraviglioso speedy meravigliosissimo speedy tesorino dolce speedy speedy i giochino speedy guarda guarda come gira la pallina speedy io lo inquadro sempre da vicino e sembra un gigante invece piccolino ancora 850 grammi fa bello amore buffettino lui buffettino buffete bello la gioia di vive eccolo ecco 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 qui quest'amore mio bello bravo amore bravo bravissimo cucciolo forza così campione forza così amore forza che ce la facciamo bravo grazie a tutti